C'era una volta una bambina di nome Capucetto Rosso. Una mattina la mamma disse Porta questo cestino alla nonna malata, ma mi raccomando non fermarti nel bosco, così non farai brutti incontri. La bambina però si avvicinò nel bosco, dimenticando le raccomandazioni della mamma. Ad un tratto incontrò un lupo che le disse Dove vai bella bambina tutta sola nel bosco? E la bambina rispose Vado dalla nonna malata! Il lupo, alle parole della bambina, si lanciò verso la casa della nonna, dove entrò fingendo di essere Capucetto Rosso. E appena vide la nonna, la mangiò in un sol boccone. Più tardi, anche Capucetto Rosso arrivò alla casa e il lupo che si era messo nel letto della nonna, mangiò anche lei in un attimo. Intanto dal bosco arrivò un cacciatore che doveva salutare la nonna. Ma quando arrivò alla casetta, si accorse che la porta era aperta ed entrò. Vide il grosso lupo con la pancia gonfia sdraiato sul letto della nonna. Il cacciatore si avvicinò al lupo lentamente e puntò il fucile. Pum! Fece il fucile sparando una gran botta. Poi, con un coltellaccio, aprì la pancia al lupo, morto, dalla quale uscirono Capucetto Rosso e la nonna. Fu così che la pace e la tranquillità tornarono nel grande bosco. Capucetto Rosso salutò la nonna e insieme alla mamma si avvicinò verso la sua casetta dicendo Seguiamo sempre il sentiero, senza fermarci mai. Così non faremo brutti incontri. Grazie a tutti.